Ciao a tutti ragazzi per il video di questo video, oggi vedremo tutte le varie skin che ci mancano del DLC di Camp Catacius, abbiamo già visto Toro e Bigiti, quindi adesso vedremo Bumpy, Ipara, gli Uranosauri e i Bari e anche i cari che mi sono perso, anche i caro Pirro. Quindi che è entrosauro, penso dovrebbero essere tutti quanti qui, direi di iniziare con Bumpy che abbiamo qui e vediamo un po' com'è. Bene! Bene! Allora vi dico una cosa, appena finisce di strillare Bumpy, le dimensioni sono sempre quelle di un adulto, ma io ho un altro anchilosauro, infatti appena si incroceranno li confronteremo, ma in teoria Bumpy dovrebbe essere spin, dovrebbe essere le stesse dimensioni del anchilosauro che ho qui, che colore è laggiù. Però una cosa particolare che voglio farvi notare è che se andiamo a vedere la skin qui, si chiama Irregolare, come Bigiti si chiamava tipo Mangione, infatti queste skin sono state tradotte e la cosa si nota anche per esempio con i Bari che dopo andremo a vedere. Come potete vedere è proprio Bumpy con la cornetto, questo qua un po' più corto, un po' come era Toro, però vabbè, lei è un po' più irregolare. Date come corre! Ed è fatta abbastanza bene direi la skin, sì non è male, sembra Bumpy quella di Camp, un po' più grossa magari diciamo che questa è Bumpy adulta. E' molto simpatico, un classico anchilosauro, fatto bene, dai ci sta, un bel colore, potrei usarlo nel parco semmai giusto, faremo cosa di distinto molto particolare. Dai, c'è pure dei begli occhi gialli, mentre l'altro, che colore c'è dai tuoi occhi? E sono sempre un giallastro ma è più sul nero, vedete? E se si nota anche qua c'è il corno più lungo. Molto carina, in teoria troppo particolare, ma io direi di dedicarci subito ai Paralux. Ne abbiamo due versioni, dovrei ripartire con questa che dovrebbe essere la prima versione, mi pare, ne abbiamo due. Vedete, questi qua di base sono verdi, è una cosa particolare che hanno un verso, almeno, che sembra a me, leggermente diverso da quello normale dei Paralux. Sentiteci a questo suono di sottofondo che è più stridulo, da notare che adesso questa zona dell'isola è più al buio, e infatti se aspettiamo un po', ecco qui, si illumineranno leggermente, perché pure al buio fanno questo effetto. Adesso è un po' glitchato, di solito non pulsa, ma è molto interessante. E questa dovrebbe essere la prima versione del Lux, giusto? Ci troviamo? Esatto, Lux 1. Questo è quello con la cresta azzurna dei Paralux, sì. Poi ovviamente ci sono pure gli altri, ma loro stanno davanti all'incubatrice, quindi mi rompono solo le Bols a me. Vediamo che sono carini però, dai, che si coccolano. Ovviamente c'è pure un Para normale qui per fare il confronto, e vedete appunto questo Para non si illumina. Però più o meno al stesso livello di struttura e di corporatura sono più o meno lo stesso dinosauro. Molto carino il fatto che pure all'ombra si illuminano. Vedete, piano piano, comunque andando più alla luce, diventa normale il Para. Un po' particolare, io direi di rilasciare anche gli altri Lux, vediamo un po' cosa cambia. È bloccato dal dinosauro. Quale? Questo qui? Para di potessi muore, sentite il casino che fanno. Eh, sentite questo rumore striduro, non mi pare che il Para normale lo faccia. Vabbè, ma sta dormendo, quindi non possiamo confrontare. Esatto, questi qua invece sono quelli con la cresta, vedete, già si nota, che è rosa. E c'è un colore del corpo leggermente più azzurrino. Ovviamente di notte sta cosa si nota di più, infatti appena escono tutti quanti vedremo di mettere notte. Ah, dall'altro vedete appunto le dimensioni più o meno sono uguali in pratica. Vedete, questo sembra un po' più grande ma non è vero. È la stessa dimensione. Io direi di mettere notte e vedere come si illumina il nostro Para per bene. Ecco qua, adesso è notte e possiamo vedere i nostri Lux in tutta la loro gloria. Oh, che bello, due Lux di varie varietà che si baciucchiano. Vedete, questo qui c'è la cresta azzurra e il corpo rosa. Questo c'è il corpo leggermente più azzurro e la cresta rosa invece. Molto, molto bello. Non fanno proprio una vera e propria luce ma quando ci avviciniamo vedete ci sta il flare di luce, questo effetto qua circolare che vedete. E di solito lo fa quando guardiamo il sole o magari... No, la luna non lo fa, il sole sì però. Comunque sono molto figli, di notte meritano tantissimo. Secondo me questa skin è molto simpatica. Una delle migliori in questo DLC, tra l'altro bella la coda lì. E niente, direi di passare subito ai nostri prossimi candidati delle skins. Che in questo caso dovrebbero essere... Non i monoloposauri, li vediamo la prossima volta. Dovrebbe essere Icaria o Uranosauri che hanno qualcosa di molto particolare. Eccoli qui. Questi sono gli Uranosauri del Camp Cretaceous. E perché ho detto che hanno una cosa molto particolare, che in realtà non mi aspettavo, è che... Se andiamo a vedere qui, sta scritto Uranosauro 2015, ok? E non c'è scritto niente, voi dite vabbè Dark cosa vuoi far vedere? Qui non c'è scritto niente, ma se andiamo a vedere nella sintetizzazione dinosauro... Sì mi si è incastrata la lingua, ma terremo questo errore nel video. Se andiamo a vedere qui, nelle varie skin dell'Uranosauro, quella del 2015 risulta come dimensioni piccolo. Molto interessante. Quindi in teoria questi Uranosauri dovrebbero essere più piccoli delle versioni, diciamo, normali. Aspettate che ci sono qua, ma... Sanno un po' separati. Ecco qui, questo è un Uranosauro classico. Ed effettivamente... Mmm... Devi controllare per bene. Sì, sono leggermente... Allora, c'hanno una coda leggermente più lunga di sicuro. Questo l'avevo letto pure, che la coda l'ora è molto più corta. Oh, che bello, stanno facendo interazione. Sono molto bellini, mi ricordano quelli di tipo JPOG. Oh, e c'hanno i denti! La gente ricorda che si preoccupava che non avessero i denti strani. Ce li hanno! Ha una faccia stranissima, è molto particolare. Però è figo. È molto strana, perché si vede di più lo scheletro in confronto a questi qua. Comunque a me gli Uranosauro piacciono tantissimo quelli di Jurassic World Evolution. Sono molto particolari. Questi sembrano degli ornitorinchi, per esempio. Molto più grossi e cattivi. Perché cattivi si fa per dire. Oddio, questi sono cattivi. Quindi, in teoria, questi vengono considerati come se fossero di dimensioni piccole. E che è molto particolare. Perché io mi ricordo che in camp erano comunque abbastanza grandi. Mmm... Oddio, poi non so. Vediamo che questo qua si sta avvicinando agli altri. Allora, da lontano non si nota più tanto. Ma effettivamente sembrano essere più piccoli di un Uranosauro classico. Aspettiamo che si avvicinano leggermente di più. E possiamo fare un confronto migliore, magari. Ho fatto questo bel paesaggio usando pure alcuni alberi piazzabili. Per esempio questi. E questo qui, che è uno dei miei alberi preferiti. Tra l'altro ho controllato pure i vari alberi dei vari biomi. E sono molto simpatici. Anche se quelli montani e quelli della Taiga mi sembra che sono praticamente uguali. Ecco, guardate. Guardate che differenza di dimensione. Ma qui non si nota per bene. Aspettate, andiamo a guardare la cattura. Allora, non si nota tantissimo. Ma quell'Uranosauro là dietro sembra essere molto più grosso di questo qui. Quindi, volendo, possiamo fare in modo che questi sono tipo la versione piccola dei Uranosauri classici. Ecco, guardate. Ecco qui, perfetto. Adesso che si sono penetrati, si vede benissimo. Questo nanosauro qui è davvero molto molto più grande di questo qua. Molto particolare sto fatto. Non so se è giusto, se è corretto. Perché, ripeto, nella serie a me sembrava comunque abbastanza grandi. Però molto carino. Dai, ci sta. Direi di passare al prossimo dinosauro. Anzi, ai prossimi perché vedremo i vari. Ne ho già due qui. Rilasciamo il terzo. Che purtroppo non ne possiamo rilasciare tutti e tre insieme. A meno che non facciamo casini con le skin random. Ed ecco qua. Molto carino, molto carino. C'ha una skin molto più liscia in confronto al bari normale. Questo dovrebbe essere Limbo. Che è scritto bene la traduzione, per fortuna. Ma se andiamo a vedere gli altri che sono Chaos, che è scritto abbastanza bene e sta scassando una macchina. Anche se ci manca l'H nel nome, che mi ricordo è scritto con l'H. Ma ci sta Grimm, che si chiama Feroce. Che non si vede perché sta dentro la foresta, ovviamente. Ho voluto fare un ambiente molto, molto più paludoso. Ma mi è andata male, perché stanno mettendo tutti quanti dentro la foresta. Ecco qua. Comunque, allora, lui è fatto bene, Chaos. È molto simile però a quello, ovviamente, di Jurassic World. C'ha più o meno la stessa tinta. Bellina l'interazione loro. Grimm non ne vuole uscire dalla parude. Limbo pure è fatto bene, direi. Sommia molto a quello dello Shoe. Molto marroncino, molto simpatico. Grimm non si voleva far vedere perché secondo me c'ha paura che ci muore. Perché quello che muore, lui, è quello verde. Però si nasconde dentro la foresta. Eccolo. No, ma questo è sempre... Ah, no, sì, sì, è lui. Ecco, vedete? Aspettate che esce un po' di più alla luce del sole. Pure lui è fatto bene. Prima i bari sembravano strani perché visero una foto sbagliata. Tra l'altro approfittiamo per vederli mentre mangiano. Oh, è venuto pure Chaos. Vai, Chaos. Mangiamo con Grimm. Scusate, mi confondo sempre. Era un po' glitchata con l'animazione. Dai, ma ci sta. Molto simpatici e carini pure i bari. Ci stanno, ci stanno. Sono fatti bene. Direi di proseguire con Pierce. Pierce, che è molto particolare perché anche lui, come Iurano Sauri, nella skin ci ha scritto che è grande invece. Quindi, appunto, è più grande di un Kentro normale. E mo' infatti vedremo per bene. Tra l'altro penso che abbia anche dei suoni diversi. Chissà, no, le Kentro Sauri avete sentito pure il verso. Che fanno... Ebbè, sì, direi che il verso è molto diverso. È fatto bene. Mi piace tantissimo Pierce. Eccolo qua. Che poi il colore mi ricorda sempre Jurassic Park Operation Genesis. Tra l'altro. Più o meno il colore era questo qui. Se noi andiamo a confrontarli con gli altri Kentro che stanno qua dentro. Però stanno un po' lontani. Comunque già da lontano più o meno si vede... Vabbè, questo è seduto. Non lo consideriamo. Questi sono i Kentro normali. Sono molto piccolini. Vedete, si mimetizzano addirittura. Hanno distrutto... Ah, perché c'è l'Indora. È vero. È vero. E malattia non identificata. Perché? Io avevo disattivato le malattie, mi pare. Ok, hanno fatto bei casini. Comunque, vedete, Pierce è molto più grosso in confronto agli altri. Perché sono malati i dinosauri? Io avevo disattivato le malattie. Aspetta che si sta avvicinando Pierce. Aspettate, vado a disattivare. Guarda, nessuna malattia. What the fuck? Indominus? Lo so che ti vuoi far vedere. Ti farò vedere perché tu fai una cosa interessante insieme ai Raptor adesso. Però non è il metodo giusto per farsi notare, ammalarsi. Non so nemmeno come. Spero tu non abbia un telefono in bocca. Che cosa che può succedere? Ecco, guardate la differenza di dimensioni tra i due modelli. Tanto stanno facendo l'interazione. Cioè, guardate, questo è il figlio di Pierce in pratica. Che tra l'altro la sua skin, se andiamo a vedere, pure viene tradotta in italiano. Infatti si chiama Squarcio. Che poi Pierce è tipo pure un nome che si usa molto tipo in America, eccetera. Mi chiedo se l'interazione è diversa. Non mi pare. Cioè, guardate, è vero, sono tipo padre e figlio o figlia. Fighissimo, molto carino pure il caro Pierce. Ci sta, dai. È una bella skin. Penso che, vabbè, la peggiore resta big it, ma in realtà rivedendola ieri è molto meglio di come mi aspettassi. Quindi comunque sono belle skin, dai. Bene, vorrei andare a vedere questo... Questo indo che non so che problemi c'ha. Mica c'è il telefono addosso. No. Sta mangiando tranquillamente. Comunque adesso l'indo può fare una cosa molto particolare. Non riguarda ovviamente i DLC, ma comunque ne approfittiamo perché qua, tra l'altro, fighissimo l'auto distrutta. Perché adesso l'indo può vivere tranquillamente insieme ai raptor. Vabbè, tu sei malato adesso, poi ci penseremo. Dove sta? Ecco qua, infatti, condiviso con raptor che adora. Vedete, sta tutto il resto. Ma vorrei aspettare che i raptor si avvicinassero, ma... Non li vedo. Raptor? Ah, sì, sono qui. Aspettiamo un po' e vediamo se il nostro indo non muore, prima cosa. Ovviamente, se andiamo a controllare i raptor, anche loro diranno che stanno benissimo con l'indominus rex. Quindi non hanno più problemi. Possono fare... Oh, ecco qua, perfetto. Proprio nel momento giusto, presi il raptor. Guardate. Fanno pure un'interazione. Lindo si abbassa e inizia a parlare con il raptor. Hanno una bellissima conversazione amichevole. Che skin è questo? Voglio andarlo a vedere dopo. Molto figo e ricorda molto anche il film. Voglio vedere tu che skin hai, caro raptor. Sei particolarissimo, sei strano. Non mi ricordavo questa skin. Molto, molto grigia. Colore sei. Svalabard e calciorana, calcorana. Bene, ragazzi, direi che per questo video è tutto. Come avete potuto vedere, anche il caro indo adesso adegni amichetti. E non sarà più il cattivune. Anche se, vabbè, resta sempre il cattivune. Perché può sfondare tutto, dato che richiede sei di protezione. E queste sono solo cinque il massimo. Come diciamo l'indo raptor che potrà scalare anche queste, tra l'altro, ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ditemi nei commenti qual è la vostra skin preferita. Se vi piacciono i Bari. Se vi piace il caro Pierce qui. Dove sta Pierce? Pierce? Beh, stanno negli alberi. Se vi piacciono gli Uranosauri. Oppure se preferite magari Toro e Bigiti. Oppure i Paralux e anche caro Bumpy. Anzi, la cara Bumpy. Beh, ragazzi, vi saluto. Ci vediamo tra poco con un prossimo video, direi. Sui Monolofosauri. Alla prossima, ragazzi. Ciao.